La Valera Antonio Guariglia è una realtà, attenzione, giocate! Il ruolo del Modena credo che c'era fuori gioco, credo che sia stato un primo tempo equilibrato finché non abbiamo preso il gol, una volta ho preso il gol, mi ha subito il secondo e da lì non c'è stata la reazione che mi aspettavo, credo che il vestito giusto sia quello delle ultime tre partite. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!